Rilanciare con ancora più determinazione e entusiasmo l'azione del governo per rimettere in moto il paese, per rilanciare la crescita, l'occupazione, l'equità sociale, la coesione e anche realizzare questo grande Green New Deal ambientale. Quindi abbiamo molti idee, molti programmi e li realizzeremo con ancora più determinazione e entusiasmo. Noi abbiamo avviato un tavolo di riflessione sulle pensioni con i sindacati, perché il nostro metodo è sempre quello del dialogo e dell'ascolto. Quindi ci occupiamo del futuro del sistema pensionistico e per quanto riguarda il reddito di cittadinanza noi abbiamo fatto bene a mantenere questa misura che si sta rivelando efficace per contrastare la povertà che si è ridotta. Allo stesso tempo la dobbiamo migliorare per migliorare la sua capacità di sostenere le politiche attive del lavoro. Quindi questo è lo spirito con cui lavoreremo. È una candidatura che mi è stata chiesta in modo unitario dalle forze del centro-sinistra, in uno schema che ci vede convintamente alleati, anche col Movimento 5 Stelle, in una prospettiva di governo triennale. Quindi adesso vado che mi stanno reclamando, vi ringrazio. In questo lavoro dal basso che dobbiamo fare tutti insieme, anche dobbiamo concorrere a definire. Un metodo è una prospettiva politica. Facciamolo tutti insieme, vi ringrazio davvero per il vostro entusiasmo. Mettiamoci la tutta. Grazie.